Quale futuro? A questa domanda abbiamo provato a rispondere con un libro, un libro che ho curato dando spazio e voce ai ragazzi della Scuola Meritare l'Italia, una scuola finanziata, ideata e sostenuta da Matteo Renzi in un momento in cui Italia Viva non era ancora nata. Questo libro non ha un simbolo, vuole valorizzare quelle idee che sono di ragazzi che vengono da esperienze diverse, alcuni di essi ancora non hanno scelto da che parte stare, però hanno proposte così belle e così importanti che sarebbe un peccato non valorizzare. Paolo Scialdoni nel suo intervento ci ha ricordato oggi che vuole una politica che sappia scegliere da che parte stare, idealità, radicalità, in un termine identità, quell'identità che qualcuno ha perduto e su cui noi ci vogliamo focalizzare. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza. dobbiamo avere il coraggio non solo con le parole ma con i fatti di superarlo, destinando quelle risorse a un piano straordinario per l'occupazione dei nostri giovani. La ricetta è semplice e c'è nel libro che abbiamo consegnato fisicalmente e idealmente i nostri coordinatori nazionali. Hai meno di 35 anni? Il tuo stipendio un pezzo te lo paga lo Stato e un pezzo te lo paga il tuo datore di lavoro. È semplice, automatico e si rappresenta nel modo migliore a tutti. Non c'è burocrazia, è un percorso come un'autostrada lineare. Questo l'hanno ideato i ragazzi e è per loro che dobbiamo vivere e lavorare questa nostra avventura. Noi, lo diceva questo Rinaldo prima di me, non siamo una costola di nessuno, siamo un partito inclusivo che deve guardare non soltanto a ciò che siamo stati, quello farà sempre parte di noi, ma dove vogliamo andare. Un obiettivo comune e quell'obiettivo non può essere quello di stare nel mezzo al campo, quell'obiettivo è essere noi stessi con la nostra forza, con la nostra spina dorsale. Noi non siamo la costola di nessuno, noi siamo Italia viva! E per questo, quando da padre di tre figli, e qui chiudo davvero su questo, penso al nostro ministro, questo ministro ha rappresentato Elena Bonetti un passaggio forte identitario di quello che dicevo prima. La famiglia al centro, le tasse in soffitta, dove per essere un padre e una madre in questo paese, non serva essere eroi, ma persone per bene. Grazie Edoardo.